Ok Simone, ok Ghost, per lo meglio Ghost per il canale, fai questo benedetto salto normale come tutti gli esseri viventi. Ok, a posto Simone, non ci è voluto molto, è stata solo un'impresa da bambini piccoli, ma perché salta di nuovo? Maronna quanto l'odio quando salta due volte! Portate pazienza ragazzi, ormai mi conoscete, conoscete anche questo Steve che è uno Steve veramente, e se devo ammetterlo ragazzi, ho detto una bufala, una grandissima bufala sul fatto che io ho Minecraft Premium, infatti, ah cavolo faccio, remove, cancel, tutto uguale per me, non ce l'ho Premium, lo dovrei prendere, questo veramente Premium, lo dovrei prendere il prossimo mese, con i soldi miei ovviamente, quelli che mi guadagno io su internet, sono già alla cifra di 10,69€, mi manca il restante, che spero che abilitano di nuovo i pagamenti su quel cavolo di sito, che se sto cavolo di Paypal rompe sempre le palle, però è una buona, un buon metodo comunque, Paypal per avere soldi su internet, e ok grazie, ma vabbè se non cado di nuovo nel vuoto penso di farci, veloce il tempo scorre? Eh io non c'ho cronometri, scusami difu, io non ho cronometri, quindi cosa vi stavo dicendo? Ah sì, del Premium, si spera che la prossima settimana si abilitano i pagamenti, io dovrei avercelo il 2 ottobre, io il 2 ottobre dovrei avere l'account Premium, se invece non abilitano i pagamenti entro il 2 ottobre, ce lo avrò una settimana dopo, nel caso anche quella settimana non li abilitano un'altra settimana, quindi ogni volta che mi vedete sempre con questo personaggino Steve, vuol dire che i pagamenti non li hanno abilitati, che ragazzi vi ripeto non sono bufale perché io i soldi li ho visti veramente, che basta se ragnatele, ho capito che devo andare in acqua, questo sito non è una bufala perché io i soldi li ho visti veramente, quindi dovrei avere l'account Premium il 2 ottobre, questi sono i salti che più sono da bambini piccoli e io non ce la faccio, ok così, no grazie, non voglio che il blocco di ghiaccio mi debba rompere le scatole, vabbè che tanto ormai l'avete capito che, penso che l'abbiate anche voi capito che, usavo Mineshafter con Marco, anche perché, vabbè lo sapevate già come avevo già detto, Marco era sicuro che ce l'aveva Mineshafter, solo che ora, ho sempre aperto Minecraft con il solito, solo che, ormai non le carica neanche più le skin, quindi, ho deciso di passare a Premium con questi soldi che sto guadagnando, per il fatto che almeno posso entrare in qualche server diverso dal solito, avere una skin come tutti quanti, ok ho già capito quello che devo fare, cosa che non mi piace molto, no non la pioggia grazie, la notte grazie, quindi ragazzi se il 2 ottobre riesco ad avere l'account Premium, se riesco ad organizzarmi con un mio amico, forse riesco anche a fare una griffata con lui, perché lui ce l'ha già Premium, sì lui ce l'ha già Premium, e dovrei solo averlo pure io e organizzarmi con lui, potrete vedere anche sul mio canale una griffata, con la mia voce, non con la voce di Loquendo, anche perché io non voglio copiare nessuno, né il capobastone, né chiunque, oh ce l'ho fatta, li ho presi tutti, tranne il mio primo lapislassuli forse, sì infatti, infatti, li ho tutti e 3 i lapislassuli, solo che uno l'ho perso, come un picciu, ok così, così, ok ottimo, non so come mai sono arrivato fino a qua senza cadere una volta dentro la lava, no, ho parlato troppo presto io, ok, sai quando ho detto che avevo due lapislassuli, ok non ce li ho più, e di fu un'altra cosa che hai sbagliato è che dovevi mettere anche più Ender Pearl, perché se segui il mio canale proprio di tutti i parkour che faccio, puoi ben capire che io non ne azzecco uno, quindi non puoi mettermi solo 3 stack da 16, ok così, penso che questo video sarà più di mezz'ora anche, sì, una buona mezz'ora, ok pensavo di aver sbagliato, ne ho lanciate due come un pirla, le altre le prendo ovviamente da Too Many Items, poiché ho messo la Fightful quindi è diventato Too Many Items, ok così, vai, ottimo, ah Death Point, non arriverò più da te, ok posso continuare, che non fare la voce e la pirla, ok 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 ok, ok a posto, di altro, come vi ho già detto prima, mi raccomando, scrivete poi nei commenti cosa volete vedere, se il canale volete che continua su Minecraft, se continua su, no, non se continui lì, ma se continuo così, ok, se continui con Minecraft, se continui, se invece inizi delle nuove serie su dei giochi horror, ho anche gli indie, come faceva anche il colonnello Frenesi, ok, quei giochi indie tipo Aoni, non lo so, ditemi un po' voi ragazzi, io non voglio copiare nessuno, come ho già detto, che io ho lanciato una perla vuota, ora voglio capire se è andata qua, tipo anche quei giochi là comunque ragazzi, voi consigliate, io vedo quello che mi piace di più, quello che mi sembra più abbordabile, lo faccio ovviamente, ottimo, ora solo di Pichu cadrebbero qui, Vifo è stato bravo comunque a mettere queste colonnine, comunque sono un punto di riferimento dove far atterrare l'enderpearl, solo se sei vicino ovviamente, perché se no, come vedete, bisogna alzare il tiro, bisogna alzare il tiro, ok, e ora bisogna alzarlo tantissimo il tiro, ok, ottimo, no, non mi piace la cosa che il muro mi molesti, sì, non so da dove mi è uscita questa, è il muro che mi molesta, è nuova, no, scusami Difu, sono un Pichu, ho sbagliato la mira dell'enderpearl, e va bene, facciamo le cose come si devono fare, e ritorniamo lassù, sì vabbè, no, forse le cose come si devono fare non bisogna farle, scusate l'ultima bravata di cacca che ho fatto, ora ci arrivo in un batter d'occhio, no, no, non dico niente, non dico niente, mi faccio chietta da solo, 4 death point più 2 caduti nel vuoto, ok, ok, grazie muro che mi molesti, grazie mille, ottimo, il muro nonostante mi abbia molestato, mi abbia anche salvato la vita, ok, no, ma scusa, se cadi nella lava, la caduta non dovrebbe avere la stessa grazia dell'acqua, cioè, alla caduta, te dovresti ricevere il mio danno, ovviamente, ricevi il danno per la lava, vabbè, dai, non facciamo caso ai 5 punti di morte, questo è solo il muro che mi molesta, sono io che riesco, se avete un altro youtuber che ci riesce, ditevolo, vado a vederlo, non scrivo pure nei commenti, passatevi al mio canale, perché dovremmo fare qualcosa poi insieme, perché siamo accomunati, no, ti odio, è il martello, non fateci caso, sono solo scritte, non sono death point, no, sono solo scritte, non sono death point, ma vedete, dai, sono, non sono death point, se pensate che siamo death point voglio dire che non sapete usare la base minimap, che sono un picciullo, lo so, ok, no, la cosa non mi piace, non mi va di fare un taglio, perché ci sono riusciti, ma che cavolo faccio, se no prendo l'inventario con n, ok, e grazie, fammi atterrare in un punto decente, ok, mi tocca tagliare, oppure ci vado con la creative, non lo so, proviamo l'ultima volta, con calma, con calma, quanti sono, 1, 2, qua mi sembra doppio, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e là mi sa che ce ne sono 3, sì, 3, 9, le altre 2 sono 11 volte che sono morto, ma mi sembra anche di più, sì, mi sembra anche di più, qualcuno voleva anche continuare con i miei video, anzi, non solo uno, anche più di qualcuno, erano due o tre, ce ne avevano pure contattato su Skype per il video, scusate comunque se non l'ho fatto in questo periodo, non lo voglio che mi suona, scusate se non l'ho fatto in questi periodi, ma sinceramente ve lo dico ragazzi, io vedo le statistiche, non, mi dicevo, non valeva la pena di continuare, un'altra cosa che vi dico io ragazzi, il contesto dei 225 vi dico subito, lo tolgo, ma vi prometto che lo rimetterò, non so se l'avevo già detto in un altro video, ma vi prometto che lo rimetterò se il canale si riprende, tipo, ma non, non ce la faccio più a sbagliare sempre lì, sempre in quel punto, ok, basta, non è successo niente, è successo niente, sono solo troppi that point, voi non vedete nulla, ok, grazie, ok, remove tutti quanti, grazie, aspetta, vado, non vale lo shift qui, ok, a posto, cancel, no, remove, grazie, no, che lo pare la differenza tra cancel, no, remove, so che sono una frase in inglese io, però, ha una differenza tra la race minima, la race minima, infatti, la race minima, io sto punto, io lo odio sto punto, faccio un mini taglio al video e ci vediamo fra poco, vi dico direttamente ragazzi, io quel punto l'ho fatto, ci vado con la creative e a dopo, ok ragazzi, eccomi qua, vedete che già direttamente sono quella creative, l'ho usata, sono 27 minuti di video, non posso fallire con 4 salti all'ultimo, quindi, l'enderpearl, l'enderpearl, si vede come riesco a muovermi nella creativa io, usare troppo too many items fa male, si, fa proprio male, ok, guardate che bello che si vede là qua, grazie per la scritta, la mega scritta, il contest di 3 mesi fa, che nessuno a me lo caga più, 3 mesi fa, si, ah è vero che non si possono lanciare l'enderpearl, un coglione, uela, uela, giallo, quant'era il giallo? 800, si, si era 800 il giallo, comunque, hai finito, congratulazioni, sei riuscito a completare la mappa, ora controlla il tempo che hai impiegato, ok, grazie, no, è la zona in cui si è atterrata, è l'apis che hai trovato, è la somma, è somma e il punter, minchia, quante cose devo fare, ora confronta i risultati con le medaglie, infine sfida i tuoi amici per vedere chi è migliore, è probabile che sfiderò i miei amici, ma dovrai mettere più perle in quella cesta, perché se no ci dovrò pensare pure io, quindi possiamo dire mappa creata da Difu, più ghost 630 super, no Difu, un consiglio, guarda le riserve che fai nelle chest quando fai le custom map, ma per il resto hai davvero fatto una bella mappa, congratulazioni, non se hai usato, come cavolo si chiama, mc edit, per farlo, ma comunque è davvero spettacolare, io avevo detto che potevate usarlo ragazzi, quindi spero che la mappa vi sia piaciuta, questo sarà l'ultimo video di minecraft, se non ne volete più vedere di survei, ve lo se ne non commentate, io ve lo dico, se non commentate, è una minaccia, se non commentate non vi faccio più vedere video di minecraft, quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando commentate su cosa vorreste vedere in futuro, se è qualche gioco horror di paura, oppure minecraft con Steve, vabbè che non sarà più Steve da quando riuscirò a prendere premium, non so neanche che skin gli metterò, forse la solita, no, non mi piace più la solita, ok, salutate Steve, anzi salutatelo proprio negli occhi così, ok, salutate Steve e ci vediamo al prossimo video ragazzi, ce la faccio G, ok, a posto, ciao a tutti, mi raccomando commentate.